Consiglio Comunale di fronte a scelta, Università Gemellaggio, Wurzburg e zona 30 su Scuola Vittorini. Nel corso del Consiglio Comunale ho avuto l'onore e il piacere di discutere tre punti su quattro all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, per questo non posso che ringraziare anche la disponibilità dei colleghi e dell'amministrazione che ne hanno deciso la calendarizzazione. In ordine all'accordo tra il Comune e l'Università di Messina sulla istituzione di corso di laurea, l'assessore Granata ha garantito la ripresa dei contatti subito dopo l'elezione del nuovo Rettore per giungere all'istituzione dei corsi di infermieristica e scienze motori, rinviando ovviamente alla deliberazione che il Consiglio Comunale vorrà assumere sul punto, avendone la competenza. Ho evidenziato come la crescita del numero dei corsi universitari non è solo opportunità per i giovani stragusani, ma soprattutto occasione di sviluppo culturale e sociale per tutto il territorio, dichiara il Consigliere Comunale Paolo Cavallaro. Ha approvato all'unanimità la mozione sull'avvio dei passaggi necessari alla formalizzazione del gemellaggio tra la città di Siracusa e quella tedesca di Fursburg, il secondo dopo quello con la città di Corinto, che ha visto fortemente impegnati l'avvocato Giuseppe Moscat, presidente dell'Associazione Culturale Italo-Tedesca, e il dottor Giuseppe Rosano, presidente dell'Associazione Noi Albergatori, che ringrazio per avermi coinvolto nella pregiata iniziativa. Fursburg ha molteplici punti di vicinanza con la nostra città, dallo stile barocco di diverse chiese e monumenti alla figura del poeta Augusto von Platin, tanto per fare un esempio, prosegue a Cavallaro. In ordine alla mozione sulla atavica problematica di viabilità e sicurezza di via Regia Corte, dove insiste l'istituto scolastico Vittorini, dopo l'impegno assunto dall'assessore Pantano sulla prossima attuazione di zona scolastica, zona 30, allargamento percorsi pedonali, la maggioranza consigliare ha espresso voto contrario alla proposta dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, che dopo diverse rinunce su alcuni punti, nell'auspicio del voto favorevole di tutti i consiglieri, puntava a fissare un termine per la loro realizzazione, un termine ampio fino alla fine dell'anno per attuare tutto quanto promesso nello spirito di massima apertura verso la nuova amministrazione, con l'auspicio che alle promesse seguono i fatti, anche se le soluzioni proposte andavano arricchite con l'accoglimento delle altre richieste formulate nella mozione. Infatti, la realizzazione di un parcheggio nell'area vicino alla scuola rappresenterebbe una scelta lungimirante e seriamente auspicabile per migliorare le condizioni del traffico di tutta la zona alta della città e la realizzazione di adeguate marciapiede e pensiline lungo il percorso pedonale sulla via verrebbe incontro alla necessità di studenti e genitori di non inzupparsi d'acqua in occasione delle piogge. Lo stanziamento in bilancio delle somme necessarie è un progetto su cui lavoreremo nella logica di una adeguata programmazione purtroppo spesso carente nella nostra città. L'opposizione a questa amministrazione è scontata nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, ma sempre in una logica costruttiva nell'interesse della collettività, conclude Cavallaro.